Hey yo, what's good everyone? Benvenuti nel mio canale, questo è Mauro che vi parla e oggi vi porto la reaction al meglio di Debit, Mixed Path of freestyle 2019, sottotitolato, questa volta vado ad attivare subito questi sottotitoli, che già l'altra volta mi hanno fregato. Comunque, niente, non c'è bisogno di introduzioni, cerchiamo di fargli un po' tutti questi meglio di, spaccavano tutti quanti fino ad ora, andiamo a divertirci con Debit. 3, 2, 1, uuuuh, il minuto di Debit con Tullo, mamma mia, roba dall'altro mondo. 3, 2, 1, uuuuh, il minuto di Debit. 3, 2, 1, uuuuh, il minuto di Debit. Ma tutta quanta questa cinta Rimate pizzo Tu conta quante canne fa Ti porta rap metrica Ti sfonda onda energetica Mamma mia Distrutto Non farmi dis Che ti ho detto tutto Mamma mia Ma questo è storia Questo è storia Mi ricordo quando ci ho reagito Mi avevo impressionato a non finire Mamma mia Ma questo minuto È storico Tra il suo flow Le barre L'intrattenimento che porta sul palco È una cosa pazzesca Questo minuto è una cosa assurda Affiurato Mamma mia Mamma mia Oddio non me lo ricordavo Che gli chiedevo a quello del pubblico Dove è stato Tu lo sai No E poi guarda sotto Guarda sotto la suona Pensavo di averlo calpestato Questa me la ricordo Mamma mia Grande cheso John Cena Quella spaccava Mamma mia Supercar Buuuh Freestyle addiato Sincronizzazione in corso Avversario non rilevato Sesso indecifrato Ops Hip hop From il top Of the flops Scusa Fettini Ma fai prima Direi che Pippi A letto Fai la fettina Flop Relipato Freestyle Delicato Tu ne Complemento Oggetto Sei solo un soggetto Io il predicato Verbale Rap Tutto Gas Che non puoi Affermare Mai Mai Vai sicuro Ti mando a Casa in taxi Piano di Cazzi In culo Oh mio Dio Pure sto minuto Pure sto minuto E' una bomba Ma quello contro Tullo Era fuori dal mondo Che ti butta di sotto E non parlo mica Del burrone Ma del balcone Di per sotto No Poverino Scusa se mi viene Da ridere Ma io sputo Sopra il quarto Solo lì Mi è libero Ed è piccia Ok Oh Bella K2 Nike Freestyle Just Just Do it Tu non Sei un coglione No Sei tutte Due Sì Se ti vede MS Ti chiede Massa Tu non sei rapper Te faccio fete Sette su sette Rime perfette We go Cleback Te metto Ciao No 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 Non puoi diventare Ja'rul Sei molto meglio di Ja'rul Sei molto meglio di Ja'rul Fidati 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 Non puoi diventare Sarul, nessuno vuole diventare Sarul, nessuno vuole diventare Sarul, è una coppia di una coppia di una coppia e poi e poi c'hai parecchi nemizi se diventi Sarul, quindi fatti amare fatti amare, non diventare Sarul spacchi di più tu su questa clubback clubback, ti metto Sarul e non serve che il ve la chiudo tutti si fanno tante seghe, anche il prete anche il raven quindi in questo posto non fare il tosto perché ti schieno Tom Stone under Baker dalle gambe c'è una cosa grossa tu ci falli sopra tipo Nossa 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 com'è che si chiamava quella canzone che pure Neymar ballava J fammi un buco, ti faccio sentire il rumore delle sue ossa che dolore il tuo rap è bianco e nero e beatport ha il colore ti faccio ballare tipo bambolero non vorrei non ti facciohe dallo non mi fa tu l'hai ?" il video va a vado che ne ti chirrazzo mamma mia oh che sfida questa tu impara come no vabbè ma l'altro era troppo un personaggio il debit è sempre tutto matto e tutto quanto però il bene è vestito normale questo invece è proprio vestito anche da matto è troppo un personaggio quei punti di domanda mamma mia è troppo grande fatemi sapere se ci sono altre battle a cui ho partecipato che ci reagiamo distinguere un fenomeno da un fenomeno da paragone io bantio faraone il faraone è rap questo non è un rapper questa è carta a carbone carta a carbone tu non sei un rapper bello tu coppia basta sei un trasferello cos'è un trasferello? non lo so appena ti tocco il culo di scoppio fa tipo è ronco ma te che è tavernello bello taver quanto cazzo ne vuoi che ne chiuda non hai carattere sul palco Dio non ti aiuta il suo cadavere in un sacco di juta la mia gente ti scusa non l'avevo chiusa aaaaaaah aaaaaah fai una figura di merda come con la Germania al Brasile ma qui non diciamo nulla sulla risirata di Dreamer oh my god la notizia è questa sono Naruto aaaaaah Dreamer è morto aiuto Dreamer è morto aiuto uuuuuh sto chiamando proprio al mio piano a te che c'è un DJ mi dalla parola ti screggia che DJ che è rick che è rick che è scraccia uuuuuuuuuh uiaiaiaiaieee uiaiaiaieee 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 ehuhuuh quando un rapo è sicuro che è spacco è sicuro che è spacco tolto la oh perché cucina Oh non l'avevo capita No vaffanculo No 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 Oh my god No 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 Mamma mia non l'avevo capita No non ci credo Non ci credo Non l'avevo capita Oh mio dio Argomento No 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 Dio mi fa venire nervoso anche debit adesso Oh mio dio Non l'avevo capita questa Argomento cibo in cucina c'è solo il crack Tolgo la O c'è solo il crack Cracco in cucina No vabbè No vabbè Pazzesco Non l'avevo capita nessuno Eh ma anch'io non l'avevo capita al momento Ah Questo è il nome Per questo sto guaglione Lo prendo a ceffoni Dietro i fornelli O i flopelli Diamami ceftoni Ah Taglio 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 Baci baci piano Non mi sbaglio Sbaglio Papà parmigiano Condimento Riconosci il flow e il movimento Da Roma come Garbatella Davide contro Golia Una caramella Ahahah, questa me la ricordo! Triple H Tu non hai futuro, come un vecchio, por morte, mi invenzione, con questo tutto futuristico, rap futuristico, a, di, tu quando ratti, non fatti, alzai d'acchi e va via! Mamma mia! Ma questo, ma questo è un altro Fight Club, oddio, fatemi sapere nei commenti se questo è un altro Fight Club e se dobbiamo reagirci, è un po' basso Ciao Oh Mamma mia, mamma mia, oh mio Dio, la maggior parte l'avevo già viste, ma mamma mia, al Mai Taison ha spaccato infinito, anche al Fight Club ovviamente, visto che l'ha pure vinto, quindi mamma mia ragazzi, adesso non so se abbiamo finito tutti il meglio Dio di Logos, fatemi sapere nei commenti, se volete poi vado a fare anche gli altri, andiamo a fare le migliori rigirate, facciamo un po' tutto, iniziamo anche a fare un po' di finali del Tecnica è perfetta e tanti bei video che mi continuate a chiedere, non vi preoccupate, prima o poi incomincieremo a fare anche quelli vecchi, dai, vediamo, vediamo, buttiamo dentro tutto, come al solito vi chiedo di scrivere nei commenti a cos'altro volete che reagisca, spero che vi sia piaciuto il video, condividetelo con i vostri amici, metteteci un mi piace e non dimenticatevi di iscrivervi al canale attivando le notifiche e ci vediamo alla prossima, bella!